Siamo con Gian Paolo Massetti, presidente dell'Associazione L'Infinito, che ha organizzato questa presentazione del libro di Don Giussani. A lui vogliamo domandare una domanda così, schietta immediata. Chi è Don Giussani? Don Giussani è stato un prete che ha segnato la storia italiana, anche se non avvertita, questa incidenza forse non è stata avvertita e rimossa da molta pubblicistica, da molti giornali. E' un prete che ha segnato la storia di tanti giovani, migliaia di giovani, anche qui di Giulianova, che hanno avuto storie molto interessanti, sia dal punto di vista personale, come vicenda, la famiglia, soprattutto la passione per la realtà, sotto tutti i punti di vista. Ma questo ha anche segnato i giovani, anche di Giulianova, che sono andati per esempio a insegnare in università, che sono diventati imprenditori, sono diventate persone che hanno in qualche modo inciso, portato un'aventata anche di novità. Però, soprattutto, al di là di Giulianova, Don Giussani, ripeto, è stata una figura che non possiamo saltare nella storia italiana. Per questo noi abbiamo pensato che fosse giusto organizzare la presentazione di questo libro, che ripercorre tutta la storia di Don Giussani, dalla sua nascita fino alla sua morte. Infatti è proprio Savorana che racconta vita di Don Giussani attraverso la sua esperienza personale. In un momento nel quale si parla molto di periferie, periferie esistenziali, i giovani e le persone sono a caccia di una guida anche spirituale. Qualcuno a Giulianova, un sacerdote di Giulianova, l'ha definito un santo, Don Giussani. Potrebbe essere anche attraverso un libro la nuova guida per la riscoperta di queste periferie? Allora, come diceva Don Giussani, il santo è chi segue Cristo, chi imita Cristo, chi si immedesima con lui. Quindi, da questo punto di vista, anche se non abbiamo la canonizzazione, però per chi lo ha incontrato è un santo, proprio nel senso che attraverso di lui la figura di Cristo ci ha assegnato chi lo ha seguito. Credo che la principale eredità per noi è un'eredità educativa, che è il carismo di Don Giussani fondamentalmente. E questa è una grande sfida in un contesto che è completamente diverso rispetto a quello in cui è nato il movimento. Siamo alle fine degli anni 50 e poi dopo soprattutto il periodo della contestazione giovanile, che ha anche segnato il movimento, la storia del movimento in modo drammatico. Siamo in un'epoca nuova, siamo in un'epoca alla fine delle ideologie, apparentemente, ma dal trionfo di un nichilismo, di uno scetticismo che sono devastanti tra i ragazzi. Quindi, prima di leggere il libro, vi invitiamo tutti quanti il 22 luglio alle ore 21.15 in Piazza del Mare a Giulianova. Grazie. Prego, grazie a te. Siamo con Claudio Losterzo, che sarà il moderatore di questa serata. A lui, visto che hai anche riportato una tua testimonianza bella sulla Ralda Bruzzesi, di aver incontrato Don Giussani, ci puoi raccontare un pochino chi è Don Giussani. Don Giussani è un sacerdote che ha percorso buona parte del secolo scorso e ha portato nella società contemporanea, nella società dei suoi giorni, ha riproposto con un'attualità straordinaria il cristianesimo. Il cristianesimo basato sulla presenza reale di Gesù Cristo, come una persona viva che si può incontrare e che si può seguire. Attraverso una compagnia di persone messe insieme da lui, nella sua chiesa. Un'energia nuova che è arrivata anche a Giulianova. Voi ne siete testimonianza. Don Ennio Luca Antoni è uno di questi testimoni. Si è parlato nella conferenza stampa, che si è appena conclusa, si è parlato anche del Vescovo Abele Conigli, del Cardinale Scola, che è stato anche in aria papale. Insomma, tutti questi legami. Savorana ce li racconterà nella serata. In che modo? Visto che voi avete già letto il libro, sicuramente un'anticipazione ce la potrete fare. Sì, quello che lei ha appena accennato è un fatto straordinario. Negli anni 70, agli inizi degli anni 70, Don Angelo Scola era ancora un seminarista e non si trovava nella diocesi di Milano né in altre diocesi un Vescovo che lo volesse ordinare. Perché a quei tempi, come in liberazione, era vista con grande sospetto e anche molta diffidenza dalla Chiesa istituzionale. perché scardinava quello che era stato un concetto di cristianesimo finora vissuto. Invece trovò un favore molto fraterno in padre Abele Conigli e per cui che accolse Don Scola e l'ordino sacerdote. Don Giussani è venuto tante volte qui a Giuliano per l'amicizia che aveva con Don Abele Conigli. Ha conosciuto e ha vissuto una lunga amicizia con Don Egnolo Cantoni, che sarà uno dei testimoni di questa serata. e, come dicevamo, ha riproposto un'attualità del cristianesimo che ha affascinato tanti in Italia e ora anche nel mondo. Sono moltissimi paesi in tutto il mondo in cui è presente l'esperienza di comunione e liberazione perché la stoffa del cuore dell'uomo è sempre la stessa, a qualunque lettitudine, in qualunque età. Cioè il desiderio di verità, di bellezza, che può trovare pace solo in Cristo. Una domanda un po' provocatoria. Don Giussani c'è stato, il libro è stato scritto, comunione e liberazione resterà, quindi chi è che prenderà il testimone? Tutto il movimento, tutta l'associazione? Don Giussani ha lasciato una persona a guidare il movimento, che è Don Cullian Carron, un sacerdote spagnolo che dalla morte di Don Giussani guida il movimento di comunione e liberazione. ed è attualmente, come dire, la guida il punto di riferimento. Quindi a vederci il 22 luglio alle ore 21.15 in Piazza del Mare a Giulianova. Grazie.